che vaccinarsi non sarebbe stato necessario? Lei, dottore, ha ragione a fare questa domanda, però le rispondo volentieri, prima faccio una domanda. Interrogativo mio, se volete parlare con i Novax, invitate dei Novax. Io sono Novax, come l'onorevole sa, come sono No Arithmetics, perché sono un ricercatore. Mio figlio da piccolo è stato vaccinato, ogni volta bisogna fare... Lei non è vaccinato di Covid? Di Covid, perché sono un guarito Covid e sono seguito da un hub vaccinale, perché ogni volta devo fare la mia cartella clinica, se volete farmi un'attacca... No, però è interessante. È interessante, ma io credo che se invitate Rocco Siffredi e Valentina Nappi, non gli credete se hanno il virus dell'HIV, lasciate la loro privacy. Invece il professor Gibilisco ha donato il suo corpo alla scienza, io lo faccio ben volentieri. Accendo un allergico, avendo una serie di problemi clinici di cui vi risparmio, che non vi interessano, sono seguito e sto valutando se vaccinarmi o veno. Questo per il nostro pubblico è interessato a tante cose, la palla a volo e anche il mio status medico. Allora, se volete parlare con i Novax, invitate i Novax. Io sono qui a parlare di politica, a parlare di politica sanitaria, a parlare di diritti civili, e su questo possiamo discutere. Quindi nessuno ha mai detto di non vaccinarsi, oppure i vaccini sono brutti. Fra i docenti no Green Pass, che si sono mobilitati, giusto o sbagliato, ci sono molti colleghi vaccinati. Assolutamente. Quindi non stiamo parlando vaccino sì o vaccino no. Lei ha una questione sua personale. Se volete questo, invitate qualcuno che abbia queste opinioni. Olga Milanese. Grazie.